Natale, Natale, il nostro satanello per il gruppo 6 di Ripa Rissè su Facebook. Innanzitutto la sigla d'apertura qual è? Bravissimo Natale, questa è la grande sigla d'apertura. E dopo però ci devi dire, perché chi ti ricorda, insomma lo sa e lo ricorda con affetto, come facevi a tuffarti dal tetto del tourmaline negli anni 70? Eh ma quelli erano altri tempi, diciamo io non è che ero una persona normale, era tipo come un demoniato, avevo quel coraggio di sapermi buttare, ma fino adesso ora chi lo fa più? Chi lo fa più? Ma con chi ti buttavi? Chi erano i tuoi compagni? Eh ero molti anni, Topogito, altre persone, compagni che ci sono in vita, siccome non ci sono. Ma come vi allenavate? Come? Eh no, quello allenavo solo io perché ero il maestro di io. Ah sì? Ho capito però, ma ancora oggi ti alleni così? Sì, con mio marito Nenzo. Ah con Nenzo! Che bene dica e sostanza! Grazie, grazie Natale di averci ricordato i due anni. Non cambi mai, resti sempre lo stesso. Non cambiare mai. Il lupo vince ma no, il pelo. Bravo, soprattutto il pelo, mi raccomando. Il pelo, grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.